Sono Davide Franz dell'ufficio tecnico di Adiogroup e responsabile per i prodotti Bayardinamic. Parliamo volentieri in questa occasione di Quinta. Il nome è già tutto un programma perché è la quinta generazione dei sistemi conference di Bayardinamic. Questo sistema c'è già molto interesse attorno al prodotto, verrà lanciato al Music Mass a Francoforte e ci sono molti rumor attorno a questo nuovo prodotto. Sarà un prodotto radio con frequenze e bande di utilizzo diverse dalle solite 2,4 GHz, quindi al di fuori delle bande inflazionate dai sistemi Wi-Fi. Ci saranno a disposizione diversi tipi di basi microfoniche, a collo di cigno, con microfoni revoluto, con sistemi radio pocket ad impugnatura. Ci saranno notevoli integrazioni verso il mondo IT, anche verso la conferenza audio e forse anche video in un prossimo futuro. Il sistema sarà logicamente digitale, criptato per una piena sicurezza dei contenuti audio trattati. Avrà interfacce di configurazione via LAN, oltre che a RS2R2, avrà la possibilità di streammare i propri contenuti audio su reti LAN con protocolli AVB. e quindi un prodotto di notevole interesse. È in procinto di arrivare, probabilmente già prima dell'estate l'avremo in commercio.